buongiorno buon uomo buongiorno che te serve mi è stato detto che voi vendete la verdura degli ostaggi giusto voi chi no voi nel senso di lei lei io vabbè sì tu perciò ha della verdura che tipo di verdure ma quello che avete a me piace tutto ci avevamo l'igetriole le zucchine le carote la melanzane lo finocchio sì sì tutte cose che mi piacciono ci avevamo pure un po' di patate non so se ti piace ma sì mi piace tutto a me va bene va bene toni viene che ci sta uno signore vieni qua angioli che ti serve e ci sta sto signore fa un po' di verdura propanelo cestino e portalo dai va bene va bene ma che bello avete anche gli agnellini che vuono pezzagnelle come un pezzo ma che fa li uccidete vuoi no 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 non lo uccidiamo questi facciamo come come animale domestico beh effettivamente se non cresce potrei anche prenderlo ma ecco no non cresce questo nì cresce l'agnello no no questa è la tazza nana vabbè dai e quanto mi devo per questo 20 euro a 20 euro posso pagare con la carta e che mi vuole dare gli spicci no ma cosa ho capito no la ma non ha il post lei ma c'è un bus all'ospedale ma mi è passato che cazzo dice ho capito ma lei è un burlone dai non mi dica che non usa la carta che non c'è la carta ma voi non la usate non ci credo dai ma certo che usiamo la carta oh toni porta un po' di carta va la carta ecco la carta ecco poi ti ci puoi polire lo culo che la carta